Buona giornata amici da Massimo Fughetti oggi è giovedì 30 dicembre 2021 il sole sorge questa mattina alle 7.41 e tramonta alle 16.40 oggi si festeggia Sant'Eugenio di Milano un santo di cui si sa poco le cronache riferiscono poco sulla sua biografia sulla sua vita si sa che giunse in Italia al seguito di Carlo Magno di cui era anche padre spirituale difese duramente il concilio nel concilio di Roma il rito ambrosiano che doveva essere abolito da papa Adriano I che cosa fecero i padri vescovi allora mesero due messali all'interno della chiesa di San Pietro poi chiusero la chiesa e pregarono per tre giorni passati tre giorni entrarono in chiesa e videro ancora i due messali chiusi ma miracolosamente si dice si aprirono entrambi il che fu interpretato come se i due riti fossero ugualmente validi quello romano e quello ambrosiano quindi Sant'Eugenio di Milano è il santo di oggi quindi auguro agli Eugenio ai Gianni e tutti coloro che hanno i diminutivi e veniamo ora alle notizie a partire dal resto del carlino questa mattina sulla pagina di Fano vediamo ancora polemiche vediamo un attimo il giornale sulla grafica eccolo qua eccolo qua vediamo il giornale il resto del carlino dicevo ci sono ancora polemiche perché quando si parla di grandi iniziative sorgono sempre pareri favorevoli e pareri contrari il cantiere navale Wider che è stato prefigurato dall'amministrazione comunale nell'area della cantieristica del porto di Fano suscita alcune obiezioni la politica dunque si infiamma la vecchia guardia afferma chi si vuole privilegiare con questa realizzazione si pongono degli interrogativi ex sindaci come Carnaroli e assessori contro la variante al PRG del porto abbiamo visto come alcuni assessori non hanno approvato questa delibera di giunta alcuni sono usciti dall'aula ma Carboni responsabile della lista civica e noi giovani si è convinto e dice che quel polo serve non si vive solo di chioschi occorrono anche grandi strutture e contro la variante al piano regolatore che è stata approvata nell'ultima seduta del consiglio comunale di Fano si ipotizza anzi si rende possibile la realizzazione di un cantiere alto 24 metri come un palazzo di otto piani il circolo Gramsci il circolo culturale Gramsci obietta insomma non è d'accordo su questa realizzazione ed evidenzia la sua posizione su questo articolo del resto del Carlino questa mattina un articolo a fondo pagina invece evidenzia la conferenza stampa di fine d'anno della giunta seri e ieri infatti il sindaco ha così riassunto un po' l'attività compiuta nel 2021 e ha prefigurato le priorità programmatiche del 2022 e ha anche precisato che al momento la giunta non si cambia insomma non si fa come ha fatto Ricci a Pesaro che ha cambiato alcuni assessori a Fano invece la compagine resta confermata siamo tutti una famiglia ha detto seri ci sono anche momenti critici ma tutti insieme si cerca di superarli e così gli assessori rimangono in sella tre giorni di fila per il vaccino ma va buca anche stavolta è la protesta di Massimo Lazzari che si è recato al Codma per ricevere la terza dose e non c'è riuscito insomma ha fatto una fila molto molto lunga chilometrica è stato in attesa per diverse ore ma non potevano servirlo perché passavano solo i prenotati e lui non lo sapeva polemiche anche per la chiusura anticipata lui ha avuto la prenotazione alle ore 13 ma l'orario di chiusura è stato anticipato alle 12 e 35 insomma nei giorni scorsi ieri anche c'era una fila che si dilungava usciva fuori dal Codma e si dilungava lungo la via Campanella per diverse centinaia di metri quindi chi deve vaccinarsi chi deve fare un tampone è bene che si metta in fila per tempo e intanto ci sono anche 8 contagi al Fano Center all'interno del Conad 8 contagi al supermarket la direzione dice su 230 dipendenti un numero è davvero esiguo ebbene Omicron ormai colpisce a sprombattuto al 75 per cento dei contagi e questa variante che determina appunto il contagio dal virus ieri nelle Marche e i contagiati hanno toccato la cifra record di 1.707 non si salva davvero più nessuno commenta il giornale succede ad esempio anche lo spazio Conad nella galleria di Fano Center nella zona industriale di Bellocchi dove i dipendenti contagiati e in quarantena stando a quanto riferito dalla direzione sono 8. Tutela dei randaggi si ha la convenzione 8 mila euro per tre posti a Calucio si parla di Mondolfo la consigliera comunale Lisa Franceschini ha proposto una convenzione con il canile di Calucio per tre posti e sarà una spesa limitata poco più di 7 mila euro 7 mila 800 euro per una garanzia di tre posti appunto per questi animali per ogni cucciolo in più il comune si impegna a versare una quota di due euro e mezzo al giorno trasporto scolastico passa la frata Arcangeli a Fano ormai si è interrotto il rapporto con la tondo dopo diverse inadempienze non pagava gli stipendi non pagava le assicurazioni dei mezzi insomma per molte occasioni è dovuto subentrare il comune con le sue finanze a questo punto si è deciso di interrompere il contratto e di affidare il servizio a partire dal dalla fine delle vacanze alla ditta frata Arcangeli e veniamo a Durbino a Durbino abbiamo progetti per 80 milioni e il consultivo che ha fatto e anche la previsione il preventivo che ha fatto il sindaco Gambini per il 2022 insomma anche qui si è fatta la riunione di fine d'anno la conferenza stampa di fine d'anno della giunta Gambini l'obiettivo è quello di riqualificare la città il sindaco Gambini ha illustrato il piano della giunta per il prossimo anno ex osca a ponte armellina verso lo sblocco della situazione e il sindaco ha annunciato investimenti importanti come l'adeguamento del bocciodromo l'illuminazione l'ampliamento della rete pedonale la riqualificazione energetica degli edifici e la riqualificazione delle scuole il comune di Urbino ha investito e continua ad investire anche in mostre ed eventi gettando le basi per la celebrazione dell'anniversario ricorrente di Federico da Montefeltro dopo quello di Raffaello un altro grande illustre personaggio del rinascimento viene posto alla ribalta e viene magnificato ad Urbino sulla situazione di ponte armellina finalmente si è sbloccata la situazione per le case popolari grazie al contributo di Stefano Aguzzi l'assessore della regione e all'intervento fondamentale appunto della regione Marche valorizzare le frazioni diventiamo una città diffusa vogliamo promuovere il rispetto dei nostri borghi cambiamo a partire dai cartelli di benvenuto e questo per quanto riguarda la promozione appunto della città in paglio oltre 4 milioni di euro per lo sci ed è un articolo che riguarda le località sciistiche della nostra regione Carpegna Catria e Nerone dalla regione i ristori per i comuni compresi nelle zone degli impianti aiuti a tutto tondo per gli operatori dunque un soccorso che riva dalla regione sono 4 milioni 485 mila 759 euro che vengono assegnati dallo stato per i ristori destinati alle aziende turistiche che operano nelle zone sciistiche e ovviamente questi soldi passano attraverso la regione la befana di urbania si farà ma non sarà la stessa la scure dei provvedimenti anti covid del 24 dicembre scorso ha colpito anche la vecchina dal 4 al 6 gennaio dunque piccoli spettatori e laboratori al chiuso solo su prenotazione con mascherina ffp2 e super green pass nel pieno rispetto delle regole grandi precauzioni sono inevitabili la festa comunque si farà non è stata annullata ad urbania dove è la culla veramente del befana e negli anni passati questa festa si è celebrata con grande grande risalto e grande evidenza e veniamo anche sulle pagine della sanità dove vediamo che la situazione è sempre più problematica sette morti in regione record di contagi oltre 1700 l'abbiamo visto prima il presidente acquaroli dice ormai la zona arancione è inevitabile siamo già passati in zona gialla e ora stiamo per fare un gradino ancora in più verso la situazione problematica numeri mai visti nella diffusione del virus e sale il tasso di occupazione dei reparti con 35 pazienti in attesa del pronto soccorso il governatore dice la curva epidemiologica sta crescendo in modo esponenziale il declassamento potrebbe arrivare già il 10 gennaio quindi dopo le feste però insomma la situazione invece di migliorare si complica sempre di più purtroppo nonostante i vaccini i nuovi contagiati tutti con sintomi lievi ma c'è che si è infettato due volte in 20 giorni e il titolo che appare appunto sul resto del carlino i medici di base sono le prese con lo tsunami dei positivi e viene usata non a caso questa parola tsunami perché come una violenta tempesta che si abbatte appunto sul sistema sanitario della regione il coordinatore danilo de santi dice la loro vera ossessione è uscire dall'isolamento ma dovrebbe essere invece quella di guarire vaccini maxi accelerazione a gennaio ma si tagliano operazioni tacche e risonanze purtroppo le cure che sono al di fuori del covid risentono appunto della concentrazione del sistema sanitario sulla pandemia la regione riorganizza tutto chi aveva prenotazioni per febbraio e marzo sarà chiamato con sms per evitare il caos sui green pass e si cerca di razionalizzare di ristrutturare insomma le prenotazioni il sistema per avere il vaccino e veniamo alla cronaca il resto del carlino interviene ancora oggi sul delitto di fanano la località vicino a gradara dove un ottantenne ha ucciso la moglie durante le festività di natale l'ottantenne resta in carcere interrogato dal vip vito gangini questo il nome dell'assassino ha confermato alla confessione ho ucciso mia moglie natalia dice arrivato in provincia il figlio della vittima il personaggio viene descritto come non il figlio ovviamente il padre con un fisico magro e un fumatore incallito in germania aveva fatto per anni il saldatore insomma ha ammesso la sua colpa ed ora è a villa fastigi marconi e mamiani sono due licei il blitz dei baby vandali sono stati presi come mira ed oggetto a di atti vandalici questi due istituti scolastici e qui abbiamo la reazione del preside riccardo rossini è frustrante ha detto vedere una scuola profanata da atti poi che non hanno motivazioni sono atti completamente gratuiti allo scientifico hanno spaccato una maniglia e la tastiera di un pianoforte al linguistico hanno così tracciato scritte o scene sui muri e sulle lavagne veramente episodi inqualificabili fondi per affitti e sfratti più larga la platea dei beneficiari un articolo a centro pagina abbiamo qui la fotografia dell'assessore regionale stefano aguzzi gli aiuti richiedibili da chi deve pagare arretrati dopo aver perso il reddito di oltre il 25 per cento a causa del covid e sono aiuti della regione appunto per pagare gli affitti e per evitare gli sfratti dalle famiglie che sono state penalizzate dalla pandemia diga sul candigliano impatti eccessivi la lega ambiente insorge contro il progetto il progetto proposto da marche multiservizi il tema scottante della gestione idrica ci sarà sarà oggetto di un convegno il 27 gennaio prossimo un convegno aperto a tutti e quindi non solo ai tecnici in 11 punti ci saranno le proposte degli ecologisti per una corretta gestione e lo sfruttamento del cosiddetto oro blu che è semplicemente l'acqua l'acqua è veramente un elemento indispensabile prezioso come l'oro anzi direi più dell'oro a questo punto passiamo sul corriere adriatico chiudiamo il resto del carlino passiamo appunto sul corriere a partire dalla pagina di fano dove vediamo l'articolo che riguarda la conferenza stampa della giunta preceduta dal sindaco massimo seri 3 milioni per aiuti e spese covid il 2022 sarà l'anno di tante opere ha dichiarato il sindaco dopo un anno di semina quello del 2021 seguirà un anno di raccolto ha detto il primo cittadino ovvero il 2022 e a questo proposito dopo aver fatto un consuntivo di tutte le opere realizzate nell'anno in corso ha prefigurato gli impegni per il 2022 vediamo che cosa ha detto nel 2022 porteremo a compimento un maggior numero di opere da 4 milioni di asfaltature alla rotatoria del codma al secondo e terzo stralcio del parco urbano al parcheggio di via risorgimento alla passeggiata della darsena borghese ai due sottopassi di viale cairoli e via nazario sauro che saranno realizzati dalle ferrovie dello stato all'arredo di piazza marcolini proseguirà anche l'iter burocratico delle grandi opere come il waterfront e il palazzetto dello sport e l'ultimo tratto degli interquartieri verso gimarra quindi c'è molta molta farina in questo sacco e vedrà se si farà un buon pane fresco e croccante incarico per il restauro della fontana della fortuna l'architetta martufi di pesaro eseguirà un rilievo laser sono stati stanziati a questo proposito per il restauro 170 mila euro è stato della fortuna per fano è un po il simbolo della città al momento versa in condizioni di degrado preoccupanti sono ammalorate alcune alcuni elementi lapidei appunto della fontana questi devono essere riparati perché si tratta di un bene storico e di un bene prezioso per la città a urbino gambini mosse da capitano futuro anche a urbino il sindaco ha fatto la sua conferenza stampa vediamo il sommario previste 10 assunzioni nel 2022 nella città ducale turismo destagionalizzato e c'è ottimismo ovvero si cerca di prolungare oltre alla grande all'alta stagione le presenze turistiche progetti per 80 milioni di euro ma fei il comune è in salute per agevolare i cittadini è stato investito il 6 per cento del bilancio corrente e sono stati acquistati anche immobili per attivare nuovi servizi per la comunità la sfida è a ponte armellina giriamo ancora le pagine del Corriere e vediamo che si ritorna a Fano cultura la candidatura non vincente a capitale costata quasi 30 mila euro l'anno scorso il comune di Fano si è proposto come capitale della cultura a livello nazionale purtroppo non ha raggiunto questo obiettivo ha speso dei soldi e insomma un po' ci ha rimesso questo è un po' il senso dell'articolo ci ha rimesso perché ha speso 30 mila euro e ne ha incassati dalla regione 20 mila 30 mila euro per incarichi per la promozione di tutti i progetti che avrebbero dovuto sostenere questa candidatura il contributo regionale è stato incamerato dal comune per soli 20 mila euro il resto rimarrà evidentemente a carico delle casse comunali a mercatello sul metauro dannoso il grande invaso meglio il sistema dei laghi lega ambiente contro le proposte di marche multiservizi uno studio tecnico di un ente sovraordinato al lato insomma procedere abbiamo visto anche nei giorni scorsi questo sistema questo allarme diciamo così nei confronti dei provvedimenti che dovrebbero essere assunti per sfruttare la risorsa idrica del territorio è un patrimonio da centellinare perché poi non si rimette più insomma non si rigenera più e quindi è importante preservare quello esistente la giunta pensa alla cittadella dello sport siamo a Fossombrone lavori essenziali alla piscina, alla palestra in vista dell'acquisto e di una nuova edificazione quindi qui abbiamo la fotografia di Amadori e del vice sindaco Chiara Billi ancora a Pergola la promozione del Torelli il liceo Torelli ispirata alla Casa di Carta in questi giorni le scuole hanno iniziato le loro iniziative di promozione per attirare l'interesse degli studenti e vediamo che a Pergola si mette in gioco la Casa di Carta la Casa di Carta è un progetto giunto alla quinta stagione e vediamo che gli studenti indossano le maschere di Dalì e le iconiche tute rosse quasi cinque minuti coinvolgenti per illustrare su questo video le materie, le aule, i laboratori, i docenti e tanto altro e soprattutto gli ingredienti che rendono speciale questo istituto quindi una promozione che fanno gli stessi studenti vediamo anche un articolo di spalla di Mondolfo per il pallone al bracciale le partite allo sferisterio il consigliere Gentili chiede anche i lavori per il maltempo bocciata la proposta della minoranza per un consiglio monotematico sui danni del maltempo e gli allagamenti che si sono verificati a Marotta diamo un'occhiata anche alla sanità così come viene evidenziata dal Corriere Adriatico l'arancione si avvicina scuola e mezzi pubblici sono due maxi focolai il governatore Acquaroli con questo ritmo di ricoveri presto la soglia al limite ieri il record dei casi abbiamo detto 1707 saltano tracciamenti e quarantene se serve sì alla DAD alla didattica a distanza quarantene cambiano le regole con il booster niente isolamento sarebbe la terza dose super green pass su bus e treni varato il nuovo decreto dal 10 gennaio capienza al 50% degli stadi e qui in questo articolo abbiamo le nuove le novità per quanto riguarda le norme anti-covid cambiano di giorno in giorno e si fanno sempre più restrittive più vincolanti mai più chiusure covid il 2022 sarà l'anno della svolta la politica dia risposte è un titolo questo che riguarda il sistema delle imprese che risulta quello più danneggiato dalle norme anti-covid la politica dia risposte meno burocrazia si chiede e più formazione il turismo invoca i ristori e sgravi fiscali il commercio tasse sulle vendite online che apportano una concorrenza demotivante una concorrenza molto molto aggressiva e quindi il commercio tradizionale soffre stangata in vista sulla spesa per energia e materie prime gli aumenti lungo la filiera del primo gennaio si riversano sui beni alimentari in modo particolare e sono previsti molti molti rincari non solo nelle bollette ma anche sugli acquisti di generi alimentari base vediamo i rincari previsti sono dal 3 al 5% degli ortaggi invernali dal 15 al 30% per quanto riguarda la pasta il 20% del pane quindi vediamo come questi beni sono quelli essenziali il 25% del caffè al bar cappuccino e brioche dal 30 al 35% di frutta e verdura e vediamo anche gli aumenti del gas metano anche quello per autotrazione che addirittura si è triplicato insomma il costo si è triplicato i candidati per Marche Nord sotto pressione per il Covid ed è un concorso questo che riguarda l'assunzione di 130 infermieri alla selezione molti lavorano già con contratti a termine la situazione in ospedale si aggrava e preoccupa fuori non si percepisce quello che è realmente la situazione all'interno dei noscomi tre sessioni è una prova orale per superare la graduatoria del concorso straordinario che Marche Nord ha pubblicato per reclutare infermieri è la prima scrematura con la predisposizione di una graduatoria è attesa tra oggi e domani San Benedetto è scattata la corsa per il recupero di questo grande complesso che vediamo qui nella foto in ballo ci sono 30 milioni di fondi per ridisegnare l'ex ospedale psichiatrico in residenze sociali è un polo azur Vito, silenzio della disperazione Vito è l'ottantenne Vito Cangini l'ottantenne di cui abbiamo parlato l'assassino della moglie si tratta di Natalia qui il nome è quasi impossibile pronunciarsi criccioc una cosa del genere e qui la vediamo sorridente poverina a 61 anni è stata uccisa a pugnalate dalla furia appunto del suo compagno sfumature di bianco per Capodanno niente neve ma rifugi sempre aperti piste chiuse su Catria Nerone e Carpegna con ristoranti da tutto esaurito per San Silvestro però ci sono state anche diverse disdette a Vallefoglia Tiberi un anno vissuto in bicicletta auditore scalata lunga 365 giorni questo è l'atleta che ama le sfide ed ha percorso la stessa salita tutto l'anno una lievassa Leversting Leversting insomma una impresa e qui lo vediamo esultante con la bici elevata sulla testa insomma a insegno di trionfo e siamo giunti siamo tornati nelle pagine che abbiamo già letto quindi possiamo dare un'occhiata anche allo sport vediamo che per quanto riguarda la Vis ora è tempo di pensare ad uno stadio vero a dire la verità sono molte le località che avrebbero bisogno di uno stadio nuovo anche Fano aspira a questo obiettivo visse i tifosi al sindaco Ricci Bosco è un grande presidente ma il Benelli è freddo piovoso in ospitale dall'altro secolo e così la gente non viene c'è stata veramente una riduzione degli spettatori alle partite dei bianco-rossi per quanto riguarda il Fano Calcio invece le partite sono a rischio covid non è stato fatto il test ad Urbino per precauzione annullata l'amichevole di oggi pomeriggio e intanto la società ufficializza Mattia Spoltore nel ruolo di preparatore atletico Variale uno dei nuovi acquisti dice esordire con un gol al Fiungi mi ha fatto capire l'importanza della piazza e vediamo anche l'articolo del basket VL la partita di cartello è appesa un filo oggi Milano si sottoporrà ai tamponi sperando di trovare nuovi negativi e avere il numero minimo per giocare a Pesaro il 2 gennaio prossimo ma anche questa partita è a rischio il presidente di Lega ha dichiarato interventi scordinati delle ATS locali nell'applicare i provvedimenti di sospensione e non c'è dunque unità di intenti con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 e per quanto riguarda le notizie del giorno alle TG delle ore 20 e 30 su Fano TV e questo per il momento è tutto a risentirci di sospensione di sospensione di sospensione